Ragazzi, miei belli, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso per la pentinatura un po' così, ma c'è caldo ragazzi, ce li ho crespissimi, quindi li devo legare per forza. Detto questo, in questi giorni si sta parlando tanto di Valentin Carboni, si sta parlando tanto del fatto che probabilmente potrebbe essere ceduto all'Olympic Marsiglia, ma con varie clausole che poi l'Inter mantiene il controllo del cartellino del giocatore, andrebbe con un prestito oneroso con diritto di riscatto da parte dell'Olympic Marsiglia, ma l'Inter potrebbe riprenderlo poi a una cifra veramente bassa, qualora ne avesse l'intenzione. Molti di voi mi hanno detto, ma perché non prendiamo un italiano bravo, un bravo ragazzo, insomma un bravo giocatore, perché non diamo la possibilità agli italiani di... Allora ragazzi, non è che non si dà la possibilità agli italiani di emergere ai giovani, o meglio, non si dà perché? Perché il calcio oggi soprattutto, cioè per arrivare in serie A, per arrivare ad alti livelli, ecco diciamo non in serie A, anche in serie C, in serie B, ma anche in serie D, il calcio è caro, ci arriva solo chi ne ha la possibilità ragazzi, ve l'ha spiegato Marotta l'altro giorno, ve lo rispiego io oggi. Purtroppo il calcio di oggi, tu arrivi, tu ragazzo che vuoi intraprendere la carriera di calciatore e vuoi sfondare nel mondo del calcio, o i tuoi genitori hanno i dineri, i dineri, come si dice, la sgrana, la sghena per portarti avanti, oppure no? Perché se pensiamo che un ragazzo per arrivare ad alti livelli deve pagare una retta, per avere il convitto e tutto, deve pagare una retta di 1200 euro al mese, ragazzi spiegatemi voi i grandi campioni che sappiamo benissimo che si prendono dalle periferie, dagli ambienti meno abbienti, dove ci sono ragazzi che giocano dalla mattina alla sera a calcio, per le strade, per i borghi di periferia e quant'altro. E purtroppo quando succede questo, questi ragazzi non hanno mai la possibilità di arrivare ad alti livelli, perché ovviamente i genitori non hanno la possibilità di pagare tutti questi soldi. Quindi bisogna partire a monte, perché a casa mia si dice, vupesce, fete da testa. E allora se la smettessimo di fare queste cose, di fare queste cose spicciole, sporche, soprattutto nel mondo dello sport, e se ricominciassimo a guardare, a guardare soprattutto gli osservatori di calcio e quant'altro, nelle zone un pochettino meno abbienti, dove ci sono dei ragazzi che veramente sono dei fenomeni, ma non li portiamo in alto perché non hanno i soldi per potersi pagare il calcio, lo sport, perché bisogna pagare anche quello. E allora poi non ci lamentiamo, non mi venite a dire, ah ma perché non puntiamo sui giovani? Perché la colpa, ragazzi, è di chi gestisce il tutto. La colpa è di chi gestisce il mondo del calcio, la colpa è di chi gestisce il mondo dello sport. Perché se si pensa soltanto a fare soldi e a intascare cose, e a intascare sempre, a mettersi in tasca quelli dei piani alti, a mettersi in tasca i soldini, e poi succede questo, che ne va meno lo spettacolo, che non abbiamo più i Francesco Totti, che non abbiamo più gli Andrea Pirlo, che non abbiamo più Roberto Baggio, che non abbiamo più Paolo Maldini e tanti altri giocatori, ragazzi, io non sto qui a dirvi, sicuramente ci sono dei buoni prospetti italiani come Calafiori, come Alessandro Bastoni che non è più un prospetto ma è una certezza assoluta, come Nicolo Barella, ma abbiamo avuto una fortuna pazzesca, ragazzi, perché forse ancora vengono da una generazione che magari ancora aveva la possibilità di fare tutto questo non a pagamento, io questo non ve lo so dire ora di preciso da quando è cominciato il tutto, ma la verità è questa, che il mondo del calcio italiano ha avuto un downgrade, e questo downgrade ce l'ha avuto soprattutto perché gira tutto intorno al business, non è che vi sto dicendo che all'estero non è così, nel senso che non gira tutto attorno al business, però evidentemente all'estero i ragazzi bravi di qualità li vanno a cercare anche nelle periferie e se non hanno la possibilità investono su di loro, cosa che in Italia non facciamo più, perché in Italia gli piace solo mangiare, ammuccare dalla mattina alla sera e non gliene frega niente dello spettacolo, solo che poi è un boomerang questo, perché nel momento in cui il campionato italiano non ha più quell'attrattività che aveva prima e adesso ce ne stiamo rendendo conto perché in questi ultimi anni è così ragazzi, i giocatori sono solo di passaggio nel campionato italiano, ma poi se ne scappano per andare a prendere più soldi da qualche altra parte, perché il nostro campionato non è più blasonato come una volta e quant'altro, adesso che se ne stanno rendendo conto forse si comincia a parlarne, si incomincia a parlarne di questo, perché l'altro giorno Beppe Marotta, se l'avete sentito ai microfoni, lo ha detto e lo ha ribadito più volte, lo ha ribadito sia prima, tipo a giugno, e anche in conferenza stampa, nella prima conferenza stampa stagionale dell'Inter, quando si sono aperte le danze, lo ha ribadito più volte ragazzi, e se non si danno una mossa, altro che giovani italiani da cui ripartire, altro che giovani italiani da cui ripartire, e ce ne siamo resi conto nella nazionale italiana, e non perché nella nazionale italiana sono tutti brocchi ragazzi, perché non è così, ma avete visto la cantera al Barcellona, la cantera del Barcellona in Spagna, cioè questi praticamente ti insegnano dai pulcini il modo di giocare, il metodo tattico, tecnico del Barcellona di una volta, di un tempo, tant'è vero ragazzi, che chi è il campione d'Europa? Chi è la squadra campione d'Europa? La Spagna, chiedetevi perché è la Spagna, Yamal pensate che avesse tutti questi grandi miliardi da potersi permettere di pagare chissà quante cifre? No, ma Yamal è un campione, è un fuoriclasse, lo hanno scovato nelle periferie, evidentemente, lo hanno scovato nei suoi luoghi dove giocava a calcio, praticamente nella piazza di paese, e lo hanno portato dov'è? E non gli hanno chiesto il conto in banca, il 730 e quant'altro, questa è la differenza tra l'estero e l'Italia per certi versi, quindi ragazzi, veramente, non mi chiedete più di prendere ah, ma perché non puntiamo sui ragazzi giovani italiani? Ecco il motivo per cui non puntiamo sui ragazzi giovani italiani. Per quel che riguarda Valentin Carboni, io vi posso semplicemente dire che ancora ha tutto da dimostrare, sicuramente è un buon prospetto, ma io penso che la maggior parte di noi, me compresa, se non avessero gonfiato tantissimo il Valentin Carboni l'anno scorso a Monza, onestamente non eravamo così entusiasti di questo Valentin Carboni all'Inter, adesso invece piangete, ah, deve restare come al solito in competenza qua e là, bla bla, ma fatemi capire, ma gli avete visto fare cose mondiali a questo ragazzo? Io no, è un buonissimo giocatore, magari forse diventerà bravo, ottimo, eccezionale, ad oggi io vi dico che io non mi strappo i capelli se Valentin Carboni mi fa guadagnare 40 milioni di euro, non me li strappo, magari non me li fa guadagnare ora, mi fa guadagnare un prestito neroso adesso, e poi l'anno prossimo mi fa guadagnare questi 40 milioni, semmai il Marsiglia dovesse decidere, semmai dovesse andare, il Marsiglia dovesse decidere di acquisirlo totalmente, nella totalità. Ragazzi, la verità è questa, è che quando un giocatore va di moda, perché deve andare di moda, perché questa è la verità, perché noi poi parliamo tanto di gioielli, fenomeni, fuoriclasse e quant'altro, ma la verità è che tanti giocatori vengono portati in alto e vengono pompati dall'ambiente, perché evidentemente è così che deve essere. Io sono una persona liberissima, e ho la possibilità di dire quello che penso, e questo è quello che penso, ditemi una sola partita, dove, oddio, Valentin Carboni l'anno scorso, anche se ha giocato pochissimo in realtà, e se gioca pochissimo con Palladino e il Monza, ma ragazzi fatevi due domande e datevi due risposte, non sto dicendo che è un brocco, non sto dicendo che è scarso, ma addirittura farlo passare per il campioncino, per il fenomeno, evidentemente lo hanno pompato bene, ma a noi conviene, a noi conviene, per noi va benissimo che lui sia stato pompato bene. Ragazzi condividete il video, ovviamente scrivetemi qui nei commenti, cosa ne pensate, senza insulti, senza offese, perché se io penso una cosa, non la dovete pensare uguale a me, e possiamo anche parlarne in maniera civile, e composta, senza andare oltre il dovuto. Vi abbraccio forte, come se fossi lì, come sempre, scusate la voce, ma sono un po' afona oggi, anzi in questi giorni, devo dire perché ventilazione, caldo, freddo, sudi, temperature, cose, insomma sto perdendo tutto, pure l'anima. E niente, di nuovo vi abbraccio forte, come se fossi lì, e ricordatevi sempre, che la vostra luce vi vuole bene, sempre, 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 forza inter, però a volte, ragioniamo col cervello, non ci facciamo per forza, diciamo come la pensiamo noi realmente, non ci facciamo sempre condizionale, dalle influenze dei media, e dell'ambiente calcistico, guardiamole, guardiamole i giocatori, pensiamo con la nostra testa, proviamo a pensare con la nostra testa, io per prima, io per prima, non sono una giornalista, ma sono un appassionato, e si vede pure, condividete il video. Grazie a tutti.